Ciao Lari, dove siamo oggi? Hai un po' paura? Ma quanto è lungo questo salto? Ti hanno imbragato tutto? C'è un po' di terrore? Scusa, poi dall'altra parte cosa succede? Ok, vediamo una bimba che parte. Ah ok, c'era la rete. Pensavo fosse caduta, hai avuto paura. Va bene, ci vediamo dopo che facciamo il salto. Noi, non è un po' di più. Noi, non è un po' di più. Vai Lari, hai paura? Hai capito Sala cosa si fa? Eccolo! E anche questa l'abbiamo fatta. Vai Lari, hai paura? Sala! 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 Sala!